29 settembre 2024, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace, nel 37esimo anniversario delle apparizioni. Cari figli, io vi amo e per questo vengo dal cielo per offrirvi il mio amore e condurvi a mio figlio Gesù. Grazie per essere venuti. In questo momento faccio cadere dal cielo su di voi una straordinaria pioggia di grazie. Reallegratevi, perché i vostri nomi sono già scritti in cielo. Il mio Gesù mi ha mandato per chiamarvi alla conversione sincera e per dirvi che questo è il tempo opportuno per il vostro ritorno. Non incrociate le braccia. Ascoltatemi e sarete felici già qui sulla terra e, più tardi, conmi in cielo. Conosco le vostre necessità e pregherò il mio Gesù per voi. Coraggio. Non gettatevi ai tesori del Signore. Avanti. Quando tutto sembrerà perduto, la vittoria di Dio verrà per voi. Riempitevi di speranza. L'umanità è malata, ma i miei devoti saranno protetti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.